Noto 36 anni al regime di detenzione domiciliare, provvedimento emesso dal Tribunale di Piacenza. Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato di Noto hanno eseguito un ordine di carcerazione nel regime di detenzione domiciliare nei confronti di un uomo di 36 anni emesso dal Tribunale di Piacenza. L'uomo deve spiare la pena di 6 mesi di reclusione e pagare la pena pecuniaria di 1.000 euro per il reato di porto di oggetti atti a offendere commesso nel 2015. Grazie.